Ciao a tutti sono Valido Games, oggi continuiamo con Perdendo la Testa e andiamo avanti Benvenuti nella fattoria, iaia, oh vabbè sono incoglionita di mio, capitolo 16, amo il sud, pure io Tesorino mio, vieni a dare un bacio alla mamma, mi sei mancato tanto tesoro, guardati in volto, è come dare un morso alla torta di miele Della signora Webster, non so se si pronuncia così, sei la perfezione, sono contenta di vederti mamma, è bello tornare a casa E' lui eh? Oh scusami, dove ho lasciato le buone maniere? Tu devi essere Andy, si uno con cui vuole, vabbè lasciamo perdere, accidenti Fai venire l'infarto e una vecchietta con quel bel viso che hai, piacere signora, grazie dell'ospitalità E' un piacere, fai come se fossi a casa tua, ho lavato le lenzioni migliori che abbiamo e vi ho fatto i biscotti di cioccolato Uetta Ah di cioccolato va bene, ma Uetta mi fa schifo, non so se mi piace, ma a me fa schifo, non mi piace Elsa ha detto che sono i suoi preferiti, uovo, che gentile ha la parte sua, la ringrazio tanto, figurati Non tenetemi sulle spine, ditemi come vi siete conosciuti, che poi non si dice che è schifo, ma si dice non mi piace Però ogni tanto mi dice che è schifo, vabbè E' come è scattata la fiamma Eheh, amore a prima vista, amici e innamorati, amore a prima vista Beh in effetti amore a prima vista, perché se sono visti, vabbè Ad essere onesta, quando ho visto Randy la prima volta mi sono venute le farfalle nello stomaco, mi sono avvicinata e mi sono presentata Veramente è stato lui, però vabbè Questa è la mia bimba, Randy le ho sempre insegnato che se voleva qualcosa doveva andare a prendersela Diciamo anche che prendermi non le è risultato difficile, ero altrettanto colpito quando ho visto Elsa Siete dolci come il miele, grazie mamma E so che hai bisogno di aiuto con la festa per mettere le barbe a vietole nei barattoli Ma speravo di poter accompagnare Randy a vedere la fattoria Iaiao, possiamo svagarci per una giornata prima di metterci al lavoro? Certo, divertitevi e godetevi soli, in effetti vi avevo già fatto un prezzo per i picnic Pensavo fosse affamati, lo dicevo da fuori che c'era un odorino appetitoso, deve essere una gran cuoca Che ragazzo incantevole Beh, appena sai come è tutta la storia, non penso che pensi che sia un ragazzo incantevole Vabbè, Elsa già mi piace Mi cambio e mi metto qualcosa di comodo per i picnic Uh, ecco, perfetto, una bella tutin Ma sempre tutto, vabbè Avrei potuto semplicemente rimanere nei miei semplici vestiti, vabbè, almeno hai i jeans, insomma, qualche ora dopo Randy, questo è il tuo settimo biscotto, come fai ad avere ancora fame dopo il pasto che abbiamo fatto? Non resisto Tutto ha un sapore intenso qui, la cucina di tua madre, wow La migliore che io abbia assaggiato, sarò contenta di sentirlo È molto gloriosa dei suoi piatti, deve essere bello Ma mia madre invece non è mai piaciuto molto cucinare La maggior parte delle volte andavamo al cena fuori Sei solidale con lui, guarda l'aspetto positivo Sei solidale con lui, boh Mi spiace, mi immagino fosse stancante dopo un po', abbastanza Ho provato a cucinare qualche volta ma non mi è mai riuscito davvero bene Posso segnarti qualcosa se vuoi, mi piacerebbe Ma questa giornata è stata davvero fantastica Il cibo, il quad, gli animali, la fattoria, i posti, l'energia che alleggia nell'aria, il senso di famiglia Non pensavo che l'avrei mai detto ma... Adoro il sud e vorrei vedere Ne sono felice, era un po' sorpresa È così diverso da New York Ecco perché lo amo È come una boccata d'aria fresca, proprio come te Sei dolce, anche tu C'è solo un'altra cosa che renderebbe perfetta questa giornata Di cosa parli? Baciarti Proprio qui è proprio ora Sarebbe perfetto ora Chi è il padre? Eh, sì, è il padre Mia figlia torna a casa e nemmeno saluta suo padre Qual è la grande idea? Papà, eccoti qui Lavori nei campi quindi non volevo disturbarti E poi ero occupata a mostrare tutto a Randy Incredibile fattoria, signore Piacere di conoscerla Piacere mio Anastasia ci ha davvero sorpresi Quando ha detto che avrebbe portato un ragazzo a casa Lo ha fatto soprattutto per piacere personale Non vedevo l'ora di vedere come se la sarebbe Cavata nel nostro piccolo angolo di mondo Finora direi che sta andando bene, non credi? Beh, difficile dire qualcosa di fronte alla cucina di mia moglie Comunque torna a casa Possiamo fare la braccia per arrustire il marshmallow Verranno anche alcuni vicini Ok Prendi un po' di tempo per te Vai con papà Vai che ora con papà A noi sta bene Spensa a faccia Magnifico Con il modo in cui Randy mangia Penso che ne avremo bisogno Appunto Ma sa che è pure immobile se magno Sai Mi piace questo Randy Potrebbe anche essere un incantatore di serpenti E' così bravo con le parole Sì Lo fa davvero Certo che lo fa Come mai non lo hai ancora notato Voi due vi fissate sempre Sì Immagino di sì Siete fatti l'uno per l'altra Conosco mia figlia E posso affermare che ti piace davvero questo ragazzo Hai lo sguardo innamorato Sì, mi piace davvero tanto Grazie di avergli permesso di venire con me Sciocchina Siamo felici di averlo qui con noi Ora vai a prendere quelle due scatole e ci vediamo fuori Voglio assicurarmi che tuo padre non mangi l'intero pacco di marshmallow Oh no Penso che Randy mi piace seriamente Il giorno dopo Mia madre ha vertito tutti Tutti i vicini Mia figlia è una famosa attrice di New York Riesce a crederci E' così imbarazzante Penso che sia dolce Chi dice Randy? La sua bocca era piena di scivo Quindi ho applaudito come tutti gli altri Ma sapevo che riusciva a vedere quando fossi imbarazzata Wow Pensi che farà un altro annuncio alla festa raccolta? Ah sì? Ah sì? Posso solo sperare di non esserci quando succede Buona fortuna E ti auguro di riuscire di tenerti alla larga Di W Sì Lo e Randy non vanno esattamente d'accordo E non voglio che ci siano problemi Non so Penso che sarebbe bello avere due ragazzi che litigano per te Lily Cosa? Beh insomma Non è che è tanto bello vedere questi due ragazzi che litigano Cioè Era tanto per dire Ma essere sincera Chi pensa che vincerebbe? Chi pensi che vincerebbe? Beh Ovvio che vincerebbe Randy Perché lei è innamorata di Randy Cioè mi pare logica la cosa Bu è un po' più largo di spalle Ma Randy è forte E penso si muoverebbe con maggiore agilità Però forse nel pestaggio non lo so Vabbè Bene Forse lo scoprirai abbastanza presto Immagino che potrei Ora devo scappare Imbottigliamo il resto del barbavietro E poi andiamo alla festa E poi La notte di tutte le notti Elsa perderai finalmente vicinità Ma perché è un problema? Ma tienitela fino alla fine dei tempi Madonna mia Lo so Sono prontissima Cioè madonna mia Cioè è fissato che sia un problema Non è un problema Niente nessuno mi fermerà questa volta Io non capisco Ci sono di queste ragazze che Cioè praticamente hanno la fissa Ma non è un problema Naga dai La festa del raccolto È giunto il momento della festa del raccolto Ma la tensione tra B e Randy Non fa che aumentare Ma quindi che cacchi succederà? Si ammazzeranno di legnate? Non lo so Voi invece che cosa pensate? Che si ammazzeranno di legnate oppure no? Boh non lo so Vabbè Niente ragazzi Io devo finire qua Spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate un like Commentate Iscrivetevi al canale Seguitemi su Instagram E ciao ciao Ciao